Dal 26 marzo al 1 aprile nei 63 uffici postali della provincia di Teramo si potranno ritirare le pensioni in contanti. Giorni delicati dunque, dove è facile prevedere pericolosi assembramenti nonostante le precauzioni prese da poste italiane e se sarà necessario anche da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Sul territorio provinciale poste italiane garantirà il servizio anche nei 5 uffici situati in zona rossa mentre sono stati attivati 49 sportelli automatici per avere un anticipo di liquidità di 600 euro. Nel solo comune di Teramo saranno effettuati 3.000 crediti di pensione sul libretto. Coloro che invece non potranno evitare di ritirare l'intera pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica per cognome. Il messaggio è che poste italiane c'è, dimostrerà la propria funzionalità anche in questi casi, soprattutto in questi casi e dimostrerà la continuità, ciò che era prima nei nostri servizi, ciò che nell'emergenza metteremo in campo e ciò che sarà per il futuro. Noi garantiremo il pagamento delle pensioni in questa provincia, in questa città, con una forza enorme di personale e risorse, 63 uffici aperti, nella città di Teramo una grande razionalizzazione con 49 sportelli automatici e comunque una calendarizzazione dove tutti avranno l'opportunità e la possibilità di ritirare la propria pensione. O allo sportello, o io mi auguro soprattutto alle macchine e agli ATM disponibili. Io invito comunque a rispettare le distanze, quello che ci siamo già detti, quello che è stato già diffuso a livello nazionale dai vari decreti, dalle norme di comportamento e comunque se ci dovessero essere degli assembramenti, l'amministrazione comunale e molti altri sindaci nella provincia hanno già garantito la presenza magari di polizia o comunque di personale della protezione civile che ci potranno aiutare ad evitare assembramenti all'esterno. Per il dottor Ercole Core, al contrario, presidente della cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, si potrebbe rischiare il default del sistema sanitario. Gli anziani in fila per ritirare la pensione preoccupano moltissimo i medici di base che ritengono queste prossime giornate pericolose per il contagio da coronavirus.